Io quando vedo le distinte che vedo 10, 12, 14, 15, 2001 e vedo la mia distinte che invece ci stanno nel 2003, 13, 2002 e soltanto il 2001, questo mi dovrebbe far proiettare di mamma mia che lavoro stiamo facendo per il futuro e invece io voglio vincere subito perché siete sempre più bravi, io lo vedo dagli allenamenti, lo vedo dalla crescita di ognuno di voi, sai che cosa ci manca a noi per diventare forti come gli altri? Lo spirito di squadra, la poesione di rendersi conto ognuno di voi di quanto siete migliorati e di quanto state diventando forti come squadra, se cresce questa compattezza noi al girone di là facciamo paura, faremo sicuramente paura a tutti perché siamo arrivati al ridosso di tutto, ci manca solo poco per diventare ancora più forti e questo si diventa da squadra perché Cristian da solo non può vincere partite, adesso stiamo giocando senza Mata e non stiamo neanche sfigurando, quindi questo che vi fa capire che l'assenza di Mata è anche importante perché anche senza Mata siamo forti, figuriamoci un po', ok? Quindi per questo magico gruppo, i mi cura, i mi cura, i mi cura! Ah, c'è qua la bocca, c'è qualcuno che porta la bocca, le fai portare la panchina appunto, voi dovete fare l'ingresso in campo, eh? L'ultimo chiude la porta, metti vicino alla panchina si accingono a fare i loro ingressi in campo, dopo l'appello dell'arbitro il signor D'Alessandro della sezione Aia di Lanciano, entriamo dall'esterno, fuori c'è il mercato è il video, è il video, è il video, aspetta, ecco, mi faccio una foto